Scopri le avventure e disavventure amorose con un tocco di umorismo italiano. Una coppia sta decidendo quale film guardare. Lui propone, amore, guardiamo un film insieme. Lei risponde, ok, ma mettiamo su qualcosa che entrambi non abbiamo mai visto. Lui replica, perfetto, allora mettiamo le nostre foto di matrimonio. Un uomo dice alla sua moglie, tesoro, sei la ruota di scorta della mia vita. La moglie, emozionata, risponde, davvero amore, perché? E lui, perché senza di te, non vado da nessuna parte. Due coniugi sono a dieta. La moglie dice al marito, amore, ho una fame da lupi, che facciamo? Il marito risponde, niente paura, tesoro, ho una soluzione. A giorni alterni mangio io, a giorni alterni mangi tu.